grazie mi raccomando iscrizione gratis gratis al canale attivate la campanellina personalizzate la con vibrazioni suoni mi raccomando eh ci conto anche se è gratis voi non siete obbligati lo sapete però ci conto iscrizione al canale gratis ma sai non è allora io ne approfitto per ribadire cose che mi hanno messo in bocca e non ho mai detto quindi questa è un'occasione ottima per per approfittarne è un assist clamoroso rain group rain group rain group al compratore un fondo medio orientale lo sta riportando tutto sport lo stanno riportando i vari insider i giornalisti indipendentemente da chi l'ha scritto io confermo come ho già fatto la settimana scorsa però eh purtroppo qualcuno gioca sporco e mi hanno messo in bocca parole che io non ho mai detto sfido chiunque a trovare in un video in una live dove ho detto non lo so però potrebbero entrare qualche potrebbe entrare qualche di un altro no saranno i sauditi i prossimi proprietari dell'inter eh seven up ha ritagliato un pezzettino di live l'ha passata sul canale perché questo canale è gestito anche da seven up non solo da me da raffa e saluto raffa è uno dei pilastri del canale che sono i dati anzi siamo i due siamo io e lui e quindi questa rain group a quanto pare stamattina su su tutto sport in terrain all'offerta zang al bivio ragazzi le prezza di leggere i giornali ogni tanto fatela provare anche a me non lo leggo mai il giornale fatemelo leggi la banca d'affari statunitense rain group che ha in mano da mesi i dossier inter ha trovato un fondo medio orientale strano non siano americani comunque ha trovato un fondo medio orientale pronto ad acquistare il club alle condizioni poste dalla famiglia zang la proprietà cinese a un bivio a maggio dovrà restituire il prestito che non ce la farà mai a restituire ad optree o rifinanziarlo a tassi altissimi che a non hanno le garanzie per rifinanziarlo vi sarebbero dei tassi da usura quindi non c'è altra strada non c'è altra via che la cessione questo lo abbiamo detto migliaia di volte il fatto io non abbia parlato che non parli più quasi della proprietà non vuol dire assolutissimamente che ho cambiato idea io non parlo più della proprietà perché non c'è più nulla da dire a mio avviso c'è solo da aspettare è possibile avere informazioni su questa cosa qua tutti i giorni no non non ci voglio fare visual live iscritti su questa cosa della proprietà perché ne abbiamo fatte tante di live abbiamo spiegato la situazione finanziaria a meno a dito ripeto colgo l'occasione di questa bombetta che è stata lanciata indipendentemente dal giornale che comunque eh io non ha non apro mai quel giornale là perché non esiste aprile quel giornale là ma comunque il contenuto io lo condivido totalmente quindi per me saranno i sauditi a entrare erano gli unici che potevano permettersi una società di calcio così indebitata e ricordatevi chi prende l'inter nei primi due anni solo nei primi due anni fa un investimento da più di due miliardi due miliardi due miliardi e mezzo poi da lì a dire faremo una live con i ragazzi a breve quello è un altro discorso perché la dovevamo fare forse stasera ci stiamo organizzando non lo so se ce la faremo vedremo quando riusciremo a fare una live quindi eh cessione imminente zangano altre vie su quello io sono d'accordo zangano altre strade non può più tenere l'inter e la chiudiamo qui poi dopo come si dice dalle mie parti normale mi debba togliere tanti sassolini le pecore le si montano a maggio inutile tutti i giorni mi aspetto mi aspetto parlo dell'inter parlo di calcio parlo del campo è inutile tanto io se metto pif su un titolo se metto pif puff puff come lo chiama qualche d'uno cioè boom è normale attiri l'interesse di tutti non ci voglio ho altri argomenti su cui mi diverto molto di più tanto abbiamo già detto tutto su questa roba basta aspettare allora aslani io te lo dico è un ragazzo giovane andrebbe fatto rigiocare titolare ed è poi a quanto pare gioca c'è la nobolo però bisogna bisogna un attimino analizzare la situazione c'è la nobola d'oggi è insostituibile ma aslani se lo bocci lo bruci aslani andrebbe andava fatto giocare titolare ad empoli per come la vedo io perché non è che ha fatto male solo aslani ha fatto male tutta la squadra hanno fatto male giocatori di 35 anni che hanno 20 anni di esperienza a quanto pare c'è la nobolo torna disponibile contro l'empoli però ragazzi ad oggi secondo me serve un piano b per quando c'è la nobolo non c'è perché indipendentemente dagli eventuali a parte gli eventuali scusami a parte gli eventuali infortuni comunque non puoi fargli giocare 50 partiti devi trovare una soluzione classe si classe ci puoi giocare però classe non giocatore totalmente diverso da c'è la nobolo quindi bisognerebbe incominciare a lavorare su il sostituto di c'è quel nome che a me mi fa venire i prividi c'è quell'animale quello è un animale un top player già da ora si chiama che friend to ram detto franco to ram che io lo seguo da due anni è un animale è una bestia quello là in mezzo al campo ci sarebbe quello da prendere ho letto sentito che potrebbe che comunque ci potrebbe essere un discorso tra i club e il fratello di to ram ragazzi con i fratelli to ram davvero sarebbe sarebbe una cinquina con i fratelli to ram che che friend to ram è un fenomeno se non più se non più del fratello quasi te lo dico io quindi vedremo anche come zaghi gestirà aslani perché questo aslani ragazzi si è anche sfortunato perché poi dopo esordisce eh trova questi nani che vanno a mille che ti prestano e ti schiacciano cattivi fallosi e ti provocano e anche lui va in bambola con tutta la squadra vediamo come zaghi gestirà aslani tra l'altro comunque eh anche in zaghi la partita la sbaglia perché anche in zaghi ha sbagliato non solo i giocatori sbagliano tutti quando ci sono quelle prestazioni lì meno male abbiamo pagato pochissimo dazio quindi spero che sia l'allenatore che i giocatori ne facciano tesoro di quello che è successo l'altra sera in spagna perché ci hanno arrotati ci hanno investiti su tutto sulla grinta sulle prime palle sulle seconde palle su su tutto su qualsiasi sulla corsa su sulla voglia sulla grinta su tutto ripeto anche se anche io allora io con aslani avrei fatto giocare i frattesi perché secondo me a livello difensivo e non solo a livello difensivo che anche frattesi è un giocatore di altissimo livello ma a livello difensivo secondo me frattesi è il centrompista più intelligente nel ditte perché non corre a vuoto e comunque nella fase di risura è veramente molto ma molto bravo quindi ragazzi il discorso vuole è che il salisburgo ha vinto un tri benfica ora occhio perché ci troviamo i portoghesi e contro di noi c'hanno il coltello tra i denti vedi non è mai facile girone si ci stappavano tutte le bottiglie camma camma le partite vanno vinte sui campo sulla harta l'è facile camma camma quindi ora andiamo a empoli che lì sembra una partita facile ma non è anche contro l'empoli perché tutte le partite sono difficili rimettiamoci in carreggiata ritorniamo sulla terra facciamo un bagno di umiltà alleniamoci entriamo in forma perché se no qui ragazzi abbiamo già capito questi sono campanelli d'allarme e importanti qui non ti regala nulla nessuno ciao intenzialmente intenzialmente